Prosegue il trend positivo che era già stato inaugurato nel 2021 che peraltro chiude con un consuntivo un po' inferiore rispetto anche questo alle attese. Il 2023 è un anno in cui esistono tante tensioni anche a livello geopolitico che possono mettere in crisi questa prosecuzione della crescita che nel 2022 si consolida un più 2,2% in termini di valore aggiunto 9 miliardi e 3. Continua a crescere l'economia retina nel 2022, frenano invece le stime relative al 2023 sulle quali pesa la situazione geopolitica. A scattare l'istantanea è la Camera di Commercio di Arezzo e Siena grazie ai dati elaborati da Prometeia. Mentre settori come l'agricoltura, come benissimo le costruzioni, per esempio e anche i servizi dovuto soprattutto al turismo stanno andando nel 2022 discretamente direi, per quanto riguarda l'industria si archivia un 2021 e un 2022 buoni ma un 2023 è carico appunto di incognite e quindi probabilmente il rallentamento dell'export previsto nel 2023 creerà anche una diminuzione del nostro valore aggiunto. Se per il 2022 dunque le previsioni sono migliorate, passando dal più 1,6% di inizio anno al 2,2%, nel 2023 si evidenziano già le ricadute delle criticità. Quanto pesano i venti di guerra? Pesano notevolmente perché creano disequilibri, soprattutto nel commercio mondiale e quindi da questo punto di vista tensioni che si riverberano inevitabilmente anche da noi. Le spinte inflazionistiche, le oscillazioni dell'euro sicuramente non aiutano un settore come il nostro fortemente evocato appunto all'export, a partire soprattutto dal settore dell'oro e della moda. Dati certi invece quelli relativi all'andamento demografico delle imprese. Il numero complessivo delle aziende che hanno sede in provincia di Arezzo si attesta a fine settembre a 37.117 unità, in aumento dello 0,3% rispetto al corrispondente dato del 2021. Ci sono anche qui settori che vanno abbastanza bene nel 2022, si vede un incremento del manifatturiero, sicuramente dei servizi, in particolar modo del commercio. Per quanto riguarda invece alcuni settori che erano andati molto bene, dalla sanità ovviamente anche a settori legati a dinamiche di tipo di servizi, si ha sicuramente un rallentamento connesso al fatto del ritorno alla normalità.